Oh bene ragazzi benvenuti ben ritrovati in Excel Magico 183 oggi parliamo niente meno del grafico ad imbuto che è un grafico di default disponibile dalla versione di Excel 2019 per quelli che hanno le versioni precedenti dal 2019 potranno utilizzare tranquillamente un grafico a barre che ovviamente non ha la stessa forma ad imbuto appunto ma se non altro ha diciamo lo stesso senso e va bene soprattutto per tutte le versioni di Excel bene il grafico ad imbuto o in questo caso qua questo grafico a barre servono per visualizzare le fasi di un processo progressivamente più piccole per cui dal numero più grande al numero più piccolo bene lì per lì questo grafico qua non è che mi ha particolarmente entusiasmato il fatto che mi ordini i dati dal più grande al più piccolo non è che sia chissà che cosa di speciale questo è il grafico ad imbuto e quello che fa ecco poi l'altra cosa che mi ha un po' deluso questo grafico qua che non hanno inserito degli elementi diciamo di dinamicità come ad esempio sono stati inseriti all'interno del grafico di Pareto dove avevamo visto che i dati anche se non erano ordinati venivano automaticamente ordinati dal grafico io ad esempio in questo caso qua da questa base dati qua dove abbiamo qui le categorie e qui le serie ecco le serie devo fare in modo che siano ordinati dal più grande al più piccolo altrimenti non funziona e questo qua è un punto a sfavore visto che è un grafico di default e visto che è un grafico nuovo potevano dargli questo elemento di dinamicità cosa vuol dire questo? che ad esempio qua c'è scritto 2005 se io faccio non so 500 ecco qua vedete che ha perso questa forma di imbuto bene io ragazzi a questo punto direi di farlo è molto molto semplice ecco faremo due esempi ovviamente faremo sia il grafico ad imbuto e il grafico a barre che va bene per tutte le versioni di Excel perché qui vedremo che ci sono delle cose un po' da aggiustare poi ci sono anche dei vantaggi rispetto al grafico di default bene questa qua è la nostra base dati come prima cosa ovviamente dobbiamo andare a ordinare questi dati qua dal più grande al più piccolo ecco io clicco a qualsiasi punto di questa colonna qua e con il mouse destro vado a ordinare dalla Z alla A che vuol dire dalla più grande al più piccolo ovviamente quando ho ordinato dalla Z alla A dal più grande al più piccolo mi ha ordinato anche le categorie di conseguenza a questo punto siamo pronti per chiamare il nostro grafico di default ed è semplicissimo andiamo qua sotto qui a 200 minuto a cascata e il gioco è fatto ok adesso volendo cambiare i colori non si può cambiare tutti una volta fare i colori mischiati che abbiamo fatto qua ma dobbiamo agire coordinata per coordinata ok quindi dobbiamo fare con il mouse destro andare a formato coordinate e andare a cambiare i colori ok per cui colore tinta unita non so magari iniziamo la progressione da un colore più scuro e andiamo sempre più a un colore più chiaro ok quindi andiamo a fare così ecco vedete ecco la cosa interessante è che lui mi ha messo automaticamente le etichette poi l'altra cosa che mi piace è che ad esempio lui mi ha messo i colori del font in contrasto con il colore dello sfondo perché vedete che qua il carattere è di colore bianco e qua lo sfondo è di colore blu questa qua è una piccola cosa ma è un vantaggio vediamo che poi con l'altro grafico è uno svantaggio ecco un'altra cosa che non mi piace è il fatto che se io volessi cambiare il titolo non si può linkare il titolo come abbiamo fatto sempre con altri grafici ad esempio ci posizioniamo qua nella barra della formula e cliccando qua vedete non si può cliccare è impossibile fare questo per cui dobbiamo per forza diciamo cambiarlo manualmente quindi abbiamo scritto grafico ad imbuto ok poi vi farò vedere quanto è molto più comodo quell'altro metodo là bene adesso andiamo a fare qualcosa di simile con il grafico a barre quindi andiamo a selezionare qualsiasi punto di questo dataset inserisci andiamo a cliccare questa icona qua e andiamo a cliccare qua barre 2D bidimensionali ovviamente è un po' da sistemare ok bene la prima cosa da sistemare vedete che la progressione va dal più piccola al più grande ma io devo fare dal più grande al più piccolo quindi devo invertire il senso delle assi ok delle categorie quindi ci clicco sopra quando è attivo vedete qua mi viene fuori il formato asse vado qui e vado a scegliere opzioni asse categorie in ordine inverso vedete poi c'è quest'asse qua che ovviamente adesso in questo momento qua è scomoda perché vedremo che poi andremo a inserire i numeri all'interno diciamo della barra quindi togliamo questa asse qua ecco per allargare la barra semplicemente vedete che si è aperto il formato serie dati andiamo qui dove ho scritto spaziatura e andiamo a mettere un numero più piccolo ok meno spazio te c'è e più la barra è larga ok anche in questo caso qua per cambiare i colori ma scegliere barra per barra ok quindi andiamo a scegliere un colore in questo caso qua blu va bene poi scegliamo questo qua rosso andiamo qua in riempimento e anche in questo caso qua facciamo riempimento a tinta unita e mettiamo lo stesso colore questo qua ok bene un'altra cosa che è a favore diciamo di questo grafico qua che io posso cambiare il titolo linkando una qualsiasi cella bene in questo caso qua non c'è una cella che richiama il grafico di imbuto ma vedete cosa posso fare io posso cliccare dove c'è la barra della formula e posso cliccare qualsiasi cella insomma mettiamo il venditore vedete che mi dà venditore un'altra cosa che dobbiamo ovviamente inserire sono le etichette perché avendole tolte qui in alto l'asse diciamo delle serie dobbiamo per forza inserire un'etichetta altrimenti non si riesce a capire come facciamo inserire un'etichetta con il mouse destro aggiunge etichetta dati ok qua me li mette sulla destra ma se clicco qua sui dati formato etichetta dati vedete qua ecco io posso scegliere vedete o al centro della barra estremità interna base interna oppure estremità esterna io direi che secondo me va bene questo qua base interna bene ragazzi che dire è tutto abbiamo visto questo bel grafico per questo grafico è tutto grazie per aver visto questo video fino alla fine come al solito un like se vi è piaciuto vi aspetto al prossimo video che parliamo del grafico azionario che è veramente quello si che è molto molto interessante quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.